Piccolo trucchetto, se soffrite di questo ritardo quando spaccate le macchine, guardate Lo vedete? Che io tiro il pugno, la colpisco e la macchina si spacca dopo un tot secondi Per sistemare questo piccolo errore vi basterà fare ciò Dovete fare una scala e semplicemente fare un pugno Di conseguenza tutto andrà molto molto più liscio Attenzione però che replicando la stessa azione ritornerà lo stesso ritardo di prima, come vedete Però vi basterà appunto rifarlo da capo E proseguire col farming Attenzione che però la stessa cosa succede sulle piccole salite che vi propone la mappa Per esempio se trovate un buco, guardate per esempio qua Se io faccio la stessa cosa Mi si attiva, disattiva in pratica Prendetela come se fosse un'opzione In questo caso io rifaccio così e dovrei averlo sistemato Ecco fatto Spero di essere stato abbastanza chiaro, non so perché esista questo bug Comunque c'è questo metodo per contrastarlo Fatene buon uso Allora raga, la mappa l'abbiamo completamente distrutta Wewe ragazzi e bentornati Oggi con la build di Jess Archeologo che vi mostro subito immediatamente con ritorno di fiamma Pugno cinetico, pugno di ferro, lavoro lavoro, concentrazione di dinosauro e pelle di dinosauro Andrò in questa categoria 4 al 126 precisamente perché è l'unica foresta E proverò a distruggere tutti gli alberi che mi circondano e vedere quante assi e quanto spago intagliato riesco a farmare Ma lanciamoci subito che vi spiego altri due dettagli Allora ci tengo a fare questo video sulle assi inizialmente ma vi anticipo già che se questo video raggiunge 500 like lo farò anche in una città Quindi con efficienti e altra roba tipo vite bulloni eccetera eccetera Ci tengo a cominciare questa serie con le assi perché raga qualsiasi trappola noi craftiamo ci chiede assi Cioè non tutte ma la maggior parte delle trappole ci chiederanno assi Io per comodità vi lascerò in basso a sinistra due trappole mie che seguirò Che precisamente vi indicheranno quanta ossidata ho e quante assi ho E soprattutto anche quanto spago intagliato riesco a farmare Inutile ricordarvi che per craftare 100 semplici pugni a muro servono 700 assi raga Quindi le assi sono la cosa che serviranno di più in endgame Credetemi In endgame la cosa che faremo fuori tutti i giorni saranno assi Assi di legno, assi di legno, assi di legno Ecco perché è meglio non dico avere lo zaino pieno di assi Ma quando abbiamo le assi continuare a svuotarselo per appunto farmare altre assi in sostanza Poi è vero che si trova più facilmente che la gente te lo tira dietro Ma effettivamente io le uso tantissimo le assi per sbalzatori, pugni, dardi, palò, bordate, gommoni in caduta Raga sono tantissime le trappole che ce lo richiedono Allora io mi sono studiato questo video spero che sia di utilità per qualcuno Ma soprattutto che sia un video intrattenente Mi raccomando ricordatevi che a 500 like farò la stessa cosa in città Io direi di non perdere altro tempo Date uno sguardo velocissimo alle mie risorse Così alla fine del video se volete potrete tornare indietro col video e appunto confrontare le mie risorse Il video sarà molto molto velocizzato Inutile dirvelo perché ci ho messo un'oretta più o meno a svuotare tutta la mappa raga Ok io adesso sto parlando avendo già fatto il video Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti. Allora raga, la mappa l'abbiamo completamente distrutta. Sono riuscito a farmare la bellezza di quasi 2000 assi, 335 di spago intagliato, 106 di ossidata, però ovviamente l'ossidata non è la mappa giusta per farmare ossidata. Cioè io ho solamente tirato qualche cazzotto qua e là alle pietre che trovavo in giro, ma ricordo che non mi sono più di tanto specializzato nella polvere ossidata. Ecco appunto il mio obiettivo erano le assi e lo spago intagliato, perché come vi ho già spiegato a inizio video, le assi servono praticamente per tutto raga. Servono per i lanciatori a muro, servono per gli acule di legno a terra, servono per i dardi a muro, servono per i falò, servono per le luci a muro, servono per gli sbalzatori, servono per le trappole soffitto in caduta, che vabbè io ce le ho ancora basse. Servono anche per le bordate, quindi come avrete visto servono per un sacco di roba le assi, raga fidate. Detto da me che comunque sono a fine gioco da un botto di tempo, la cosa che continuo a far fuori di più giornalmente sono le assi. Ed è vero che è anche la cosa più semplice trovare, perché comunque basta che trovi gente che ne abbia e non le usi, che le droppa tutte senza problemi, è vero. Però l'obiettivo del gioco non è quello, l'obiettivo del gioco è farmare le risorse da se stessi. Quindi ecco perché io ho voluto portare questo video. Come al solito spero che l'idea vi sia piaciuta. Mi raccomando fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Nel frattempo avevo anche aperto qualche scatoletta, avete visto che ho trovato corlucente, trovavo spago montano anche, spago montano soprattutto, spago intagliato, polvere nera, la resina adesiva ed eccole qua le mie assi. Io spero che questo video sia stato abbastanza intrattenente e divertente e utile soprattutto per qualcuno. Mi raccomando fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, mi raccomando guardate anche tutta la mappa buota perché è un bel vedere. E soprattutto guardate qua quante puntini bianchi ci sono. Tutta questa è legna, mattone e metallo no perché non sono full, è legno e mattone raga. Qua ci saranno almeno stack e stack di legno e mattone. Boh, non posso neanche aprire la lobby per farvi entrare, non posso neanche invitarvi perché c'è il bug che non vi fa lanciare. Se no vi avrei volentieri givvato tutto questo. Niente raga, lasciatemi solo un bel like e mi raccomando ricordatevi che a 500 like faremo la stessa cosa in una città. Quindi che aspetti a mettere un bel like? Ci vediamo domani, bella bella! Ciao! Ciao! Ciao!